Allora, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, sono Angelo Grande, come di consueto il mio streaming sul mio profilo Facebook, quest'oggi che è 12 giugno del 2023, sono le 15.40 circa di questo giorno parecchio triste per me, ho da poco appreso che una persona estremamente importante per l'Italia è scomparsa, mi ha segnato molto, ho imparato ad apprezzare l'operato del Cavaliere Berlusconi dal punto di vista imprenditoriale, manageriale e anche per quanto riguarda la dirigenza sportiva. Un giorno molto triste, mi scuso con la presidenza del Consiglio se adotto questo canale per giungere a destinazione col mio cordoglio, ricorderò il Cavaliere Berlusconi come una persona da prendere ad esempio, che anche nella fase discendente quando c'è stata politica non è mai stata, non è mai stato per motivi politici, ma per gossip di corridoio. Una persona che resterà nella storia dell'Italia come il miglior imprenditore è uno dei più grandi statisti italiani della storia. Mi dispiace molto, questa notizia turba la mia serenità, ancor più di quel che era già per motivi miei vicende personali, la cosa mi porta tanta amarezza, tanta tristezza, come già fatto sul mio profilo di Twitter alla famiglia Berlusconi, il mio più caloroso abbraccio è una grave perdita. Ciao Silvio, Angelo Grande, Cortina d'Ampezzo.